Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi voglio farvi vedere come sostituire le spazzole dei terzi di cristallo della macchina in quanto la stagione invernale ci sono tante piogge, tante calamità naturali quindi è bene mettere le spazzole nuove alla macchina Quindi, intro e cominciamo subito Allora ragazzi, le spazzole che ho comprato sono queste della Bosch Aerotwin codice AM466S diciamo, l'ho comprata su Amazon, vi lascerò il link qui sotto le recensioni sono molto buone poi, insomma, conosciamo tutti la qualità Bosch su certe cose quindi mi affiderò a questa marca detto ciò, questa è l'attacco della spazzola sulla stina di terzi di cristallo basterà premere queste due linguette e tirare verso il basso la spazzola e dovrebbe venire via ok poi questa si spila si sgancia da questo vernetto e queste le possiamo buttare perché fanno veramente schifo addirittura non so se vedete sulle mie si è formata una crepa non so di che marca siano queste spazzole ma penso che siano le originali di questa macchina quindi per mettere quelle nuove infiliamo al contrario il gancetto e poi vediamo un po' se è così ok questa è messa quindi andiamo con la prossima stesso procedimento ok ok ragazzi le nuove spazzole Bosch sono state montate bellissimo tutorial è veramente facile quindi se vi si sono rovinate le spazzole non avrete più l'effetto di pulizia iniziale della vostra macchina vi consiglio vivamente di cambiare semplicemente le spazzole della macchina detto ciò se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi alla mia pagina instagram Mitch Tuning per questo video è tutto io vi saluto ciao a tutti ragazzi iscrivetevi al canale